Oggi è una giornata davvero importante, comincia un lungo periodo in cui penseremo e ci dedicheremo alle donne alla medicina di genere, diciamo con un termine tecnico che nella sostanza è fare molta e particolare attenzione a quelle patologie specifiche delle donne che, devo dire, negli anni passati sono state fortemente trascurate. Abbiamo quindi partecipato a questo evento, stiamo partecipando, lo ospitiamo anche fisicamente nel padiglione della regione Puglia. Siamo molto felici che questa grande kermesse nella quale le donne provano, dimostrano che dal tumore si può guarire, che si può persino correre e vincere una maratona. Ecco, questi eventi sono per noi il senso di una comunità, perché la malattia si sconfigge certamente con terapie, tecniche, attenzione, prevenzione soprattutto, ma si sconfigge anche tenendo presente che chi subisce un evento così traumatico, soprattutto per una donna, in particolare quello dei tumori al seno, può tornare a vivere meglio di prima e con ancora maggiore consapevolezza. Quindi questa unità di intenti costruisce anche una medicina di comunità, se mi permettete, che non è solo, ripeto, tecnica, ma è anche profonda umanità. E naturalmente la regione Puglia sta asseguendo con grande attenzione un movimento spontaneo, meraviglioso, che chiunque potrà seguire o partecipando direttamente alla maratona o comunque facendo parte di questa associazione. Comen ovviamente non organizza maratone, la maratone è un pretesto, organizza consapevolezze, e questo ovviamente soprattutto delle donne e di chiama le donne. Quindi ci auguriamo che questa consapevolezza e la programmazione degli screening, che oggi è sicuramente possibile, ci consenta di prevenire e prendere questi tumori nella fase in cui gli eventuali interventi terapeutici sono molto meno dannosi e molto meno traumatici.